Buongiorno, guerrieri della musica. Io sono Electra Bones, vi porterò con me in questo strano viaggio a scoprire o riscoprire gli album più importanti della storia della musica, una bella cavalcata epica che colpisce il cuore che rende fieri di appartenere al metallo. Io sono Electra Bones. Bastille contribuì alla creazione di molte canzoni presenti in Killamall. Ma la più famosa è sicuramente quella che prende il nome di The Four Horsemen, rivisitazione del brano originale The Mechanics. Siete pronti a partire? Metal Militia! Credevamo di poterci rilassare. E invece arriva un altro pezzone che ci costringe ad alzarci in piedi e muovere la testa. Phantom Lord. Seek and Destroy e Metallica entrano nella storia della musica. Io sono Electra Bones. Sono Lontan, rivisitazione del brano originale, dimosti questo per подарire ad alzare il Per a partire il nostro campo e il camera di quella che rim 가�à una volta di QTSS. Ho chiesto di QTSS.